Good morning a tutti voi e buona giornata. Sempre in compagnia di Luca, ovviamente. Adesso cambiamo capitolo. Abbiamo finito questo lungo discorso di Gesù al pranzo di quel fariseo che lo invita. E passiamo a questo. Intanto si erano radunate migliaia di persone. Al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli. Quindi anzitutto è rivolta questa parola ai suoi, a quelli che gli sono più vicini. E quindi potremmo dire anche è rivolta a noi questa parola. E in qualche modo continua il discorso che ha continuato a tavola con gli scribi e i dottori della legge. Guardatevi bene dal lievito dei farisei. Mamma mia, questi gli danno già contro e lui continua, no? Che è l'ipocrisia. Il lievito dei farisei è l'ipocrisia. Il lievito sappiamo che è un nome evangelico, no? Il regno dei cieli è simile a una misura di lievito impastato in tre misure di farina. Cioè il lievito dà l'idea di quello che è il regno dei cieli. Che non bisogna essere tutto, non bisogna essere in tanti, ma pochi che ci credono al regno possono far lievitare la pasta. Ebbene Gesù dice il lievito dei farisei, ciò che fa lievitare la pasta è l'ipocrisia. L'ipocrisia significa, lo sappiamo, essere, fare gli attori. Non è qualcosa di immediatamente negativo, no? Perché gli attori che si trovano su un palco, su un teatro, ovviamente fanno dei ruoli che non sono semplicemente loro e rappresentano altro. Ma nell'esperienza della fede, nell'esperienza della vita, se tu fai l'attore, beh, appunto, noi diciamo sei un'ipocrita. Quindi, attenzione che ciò che li alimenta è l'ipocrisia. È un'accusa molto, 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 molto forte, quella che Gesù fa ai farisei, che invece sono convinti esattamente, attraverso le loro regole, attraverso la loro tradizione, attraverso la loro performance nei confronti di tutte le norme, di essere dalla parte del giusto. E invece siete degli attori, ricitate. Terribile, no? Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce. Ciò che avrete detto all'orecchio, nella stanza più interna, sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna. Sì, ve lo dico. Temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Valete più di molti passeri. Nel confronto di questo discorso dell'essere attori, del barare, insomma, nei confronti di Dio e dei fratelli, Gesù ricorda a voi valete più di molti passeri. Cioè, Dio è sempre con voi. Dio sa appunto il numero dei vostri capelli. Ma questo non è una fonte di paura. Un tempo c'erano delle scritte, insomma, negli istituti religiosi, nei seminari, ricordati che Dio ti vede. Questa cosa qua, appunto, non ci deve porre timore. No, no, ricordati che Dio ti vede. È una cosa vera, autentica, bellissima. Ricordati che Dio ti vede. Ricordati che Dio cammina con te. Ricordati che Dio è alla presenza di te in ogni fragilità. E non si spaventa di questo. Perché Dio ti ama. E allora tu non barare. Stai di fronte a Lui così come sei. Perché così come sei, sei amato. Le cose belle della giornata di ieri. Beh, innanzitutto grazie a dei commenti che sono arrivati in questa giornata. A chi scrive tutti i giorni i commenti. Ma in questa giornata, cioè ieri, ecco, c'erano dei commenti personali che quindi mi hanno fatto ricordare alcune cose ecco, negli anni passati. E quindi grazie per chi ha, ma così, la voglia di condividere qualcosa anche magari qualcosa di molto personale ecco, sui commenti di YouTube. Poi ieri sera mi sono visto con gli animatori perché noi stiamo preparando due settimane comunitarie e quindi ho proprio voglia di iniziare, di ripartire. Gli ho visti presenti, carichi e anche con loro rifletteremo sui legami come con tutta la parrocchia. E quindi, insomma, mi fido molto di loro. Ale, buona giornata a tutti voi.